Io faccio la differenza perché forse ho avuto anche fortuna, la fortuna di incontri in vari ambiti culturali e li ho saputi accogliere, raccogliere e renderli parte della mia crescita. È stata graduale grazie proprio agli incontri che ho saputo valorizzare. Ho scelto Make the Difference perché siamo tutti differenti a questo mondo e ciascuno di noi deve essere testimone di se stesso per la sua cultura, per la sua storia, per il suo talento, per i suoi bt, per le sue difficoltà e perché l'aspetto formativo e culturale dei giovani è sostanziale al progresso civile, all'affermazione di valori, di principi e di giustizia.